Ciao a tutti ragazzi, oggi è un weekly vlog, non lo so, è un esperimento, vediamo come va. Nel senso che provo a registrare tutto quello che leggo in una settimana per documentarlo. Mi trovo molto bene fare questi reading vlog perché mi danno la possibilità di fissare in corso di lettura dei concetti chiave ad alta voce. Quindi li trovo anche importanti per me per andare a fissare meglio le mie letture, questo senza dubbio. È un esperimento perché non so effettivamente quanto riuscirò a registrare durante la settimana. Intanto facciamo questa clip introduttiva in cui vi do il buongiorno, è lunedì, ho appena girato il video che voi vedrete mercoledì, quindi l'avete già visto, nella mia realtà, o meglio nella realtà di voi che adesso state guardando. È un video che non avevo mai proposto sul canale, nel senso, no, o meglio, ecco, iniziamo malissimo. L'avevo proposto una volta a inizio del canale, primi video, e consigliavo 5 libri, tra cui uno fuori catalogo che era la musica del caos di Paul Oster, quindi benissimo. Oggi mi sono superata, ho fatto una pioggia di consigli, 20 libri, brevi sotto le 200 pagine. Sono molto soddisfatta, domani lo monto e mercoledì è online, ottimo. Nel frattempo ho continuato a leggere Abbaccinante e ho proseguito la lettura. La seconda parte di Abbaccinante è molto più narrativa, sì, perché nella prima parte era una parte probabilmente preparatoria, molto di suggestioni, in cui era davvero ibrida la realtà tra allucinazione, sogno, ricostruzione, memoria e realtà stessa. Invece qui abbiamo, nella seconda parte, almeno i primi due capitoli, un personaggio principale e ci sembra, o almeno mi sembra, che quello che venga narrato sia realmente successo, non sia un sogno, non sia un'allucinazione. Ovviamente con Cartarescu niente può essere dato per certo, quindi posso soltanto che dire sto leggendo questo e quello che sto capendo può essere continuamente ribaltato nelle letture successive. Allora, sto leggendo Le poltrone a passete di Felipe Polleri, ed è un libro che mi sta abbastanza destabilizzando. Ha una trama folle, e quello già ve l'avevo detto nell'ultimo reading vlog, perché si svolge all'interno di un condominio. La voce narrante sembra essere quella di un portiero, o almeno di un sostituto portiere, dico sembra essere perché poi questa voce narrante, che poi è un diario, quindi la voce narrante è quella che in teoria sta tenendo questo diario e sta scrivendo, si va a sostituire con quella di uno dei condomini, che è uno scrittore. Quindi il baricentro dell'equilibrio è sempre destabilizzato. All'interno di questo condominio vengono fatti dei concorsi particolari, una sorta di Squid Game. E proprio l'idea delle prove, delle prove anche al limite della sopravvivenza, sono un espediente letterario, sono un plot narrativo che ultimamente lo vedo molto utilizzato. Ultimamente negli ultimi 10-20 anni, perché è stato utilizzato da Stephen King, è stato utilizzato da Amelino Tomb, da Felipe Polleri, poi ovviamente ci sono tutti i prodotti di intrattenimento che vengono dal Giappone e dall'Asia. Sono però delle prove, almeno in questo romanzo, le poltrone appassite, che destabilizzano molto la mia sensibilità, nel senso che giocano moltissimo sulle deformazioni fisiche o sulle caratteristiche fisiche portate all'eccesso. Ossia l'essere troppo belli, l'essere troppo formose, sono tutte delle conformazioni fisiche, delle qualità fisiche, delle peculiarità di un corpo, che qui vengono utilizzate per essere scelte all'interno di questo Squid Game, di questi concorsi, e poi vengono portate all'estremo in situazioni assurde. Voglio continuare a leggerlo perché me ne voglio fare ancora di più un'idea. È il classico libro che, in corso di lettura, io sono a metà di questo libro, penso di non saper ancora definire, non saper gestire, perché è il classico libro che può cambiare ad un tratto tutti i connotati e tutti i diversi punti cardinali. Staremo a vedere. Comunque, oggi ho letto giusto metà di questo e un po' di abbaccinante. Sì, ho letto questo. Non so quanto riuscirò ancora a leggere perché tra un po' arrivano i ragazzi da scuola, da scuola, da diversi sport, quindi dovranno fare i compiti e io devo finire anche di lavorare. Quindi ci possiamo aggiornare a domani. Sto accarezzando lui, ovviamente. Vero? Bentornati nel weekly vlog. Oggi è martedì e è una giornata uggiosissima e casa è buia, quindi ho trovato questo piccolo angolo di luce per parlarvi del libro che ho finito questa mattina di Felipe Polleri, Le poltrona appassite. È edito Arcoiris, sì, Arcoiris Edizioni. È un libro, come vi dicevo ieri, molto strano perché ha questa trama surreale e l'elemento surreale è quello che caratterizza un po' tutta la narrazione perché è un surreale dato dal non-sense e soprattutto delle volte anche portato all'eccesso per quanto riguarda la caratterizzazione poi dei personaggi. Si tratta di un diario, di un diario molto frammentato. Inizialmente noi siamo portati a credere che questo diario sia tenuto dal portiere, da un sostituto portiere di uno stabile. Poi questo diario però viene proseguito da un'altra voce e questo rende ancora più inaffidabile la narrazione ma crea una verticalità nel senso o almeno crea una verticalità nel non-senso in quello che potrebbe essere un relativo senso. È un libro che io ho comprato dopo aver letto Domicilio sconosciuto di Luciano Funetta. Non mi ricordo in che contesto era stato citato, dovrei andare a riprendere il testo e vedere come lui l'aveva introdotta all'interno di quella storia barra saggio. Comunque ho aggiornato Goodreads e alle poltrone appassite che tra le altre cose è un bellissimo titolo gli ho dato tre stelle perché è davvero molto breve perché non arriviamo nemmeno a cento pagine ed è molto frammentario quindi la lettura è stata piacevole ma non così tanto immersiva come mi aspettavo fosse. Poi alla fine c'è un assaggio di Alfredo Zucchi in cui viene citato una serie di racconti in cui attraverso un uso comune o prosaico del linguaggio si arriva ad uno spazio trascendentale una sorta di caverna o tunnel infinito e vengono citati una serie di autori come per esempio Borges per quanto riguarda il labirinto lo specchio Bretonni surrealisti per la surrealità ma anche Bolagno con 2666 invece per lo straniamento viene citato Slosky e la scuola del metodo formale che io non ho mai letto quindi mi devo informare su questo autore. Comunque dello stesso autore sempre di Polleri edito sempre Arcoiris un altro romanzo Germania Germania quindi sono edite soltanto queste due opere. E niente ragazzi questi erano i miei aggiornamenti per quanto riguarda martedì non credo nel pomeriggio di leggere perché devo lavorare nel caso leggerò ancora penso di andare avanti con la metamorfosi di Kafka che sono più o meno a pagina 30 quindi eventualmente oggi pomeriggio ad avanti con la metamorfosi e poi magari domani facciamo un aggiornamento più corposo per quanto riguarda Kafka. Allora bentornati in questione di un vlog ragazzi oggi è venerdì non ho vloggato per due giorni assolutamente sono stata inconcludente però alla fine sti cazzi anche qui sti cazzi oggi tra le altre cose non ho lavorato a casa ma sono dovuta andare in ufficio quindi non ho letto nulla però volevo fare qualche aggiornamento di lettura non leggo ma faccio aggiornamenti di lettura quando leggo poi non faccio aggiornamenti di lettura ho finito la metamorfosi di Kafka e rispetto al processo ho trovato un romanzo diverso siamo sempre nell'assurdità kafkiana però qui ho trovato un ventaglio di speranza in più nonostante poi la storia sia altamente tragica e poi ho trovato anche una sorta di tenerezza perché è un libro che parte da una situazione assurda Gregorio si sveglia con una metamorfosi in corso che è quella che lo vede trasformato il suo corpo è trasformato in quello di uno scarafaggio il problema è che la metamorfosi vera e propria è un'altra ed è quella che avvertono i suoi familiari a seguito della sua metamorfosi quindi se da una parte il racconto o il romanzo breve come vogliamo chiamarlo se lo scritto di Kafka inizia con la metamorfosi di Gregorio in un insetto dall'altra questa metamorfosi poi va a scatenare una serie di catene di metamorfosi importantissima secondo me e poi una figura molto sfaccettata è la sorella la sorella di Gregorio come accudisce Gregorio nonostante lei sia molto più piccola di Gregorio e quindi venga vista dai genitori come una bambina cresciuta e la metamorfosi di Gregorio la pone di fronte alla sua crescita dall'altra la sorella farà un'ulteriore metamorfosi stessa metamorfosi che poi subiranno anche i genitori di Gregorio è un libro che parla appunto di una situazione assurda di una situazione paradossale che però pone la centralità nella solitudine noi siamo all'interno di una famiglia perché noi osserviamo la metamorfosi di Gregorio e poi la vediamo ne vediamo gli effetti sugli altri familiari il problema è che non c'è mai un dialogo tra loro Gregorio non parlerà mai con loro ci saranno delle prove di comunicabilità però ognuno di questi personaggi Gregorio la sorella e i genitori vivranno una propria solitudine inoltre centrale anche nella metamorfosi come anche nel processo era il tema del lavoro l'individuo l'uomo di Kafka viene visto sempre come un uomo che ha un lavoro quel lavoro lo porta ad avere una serie di doveri e si sente in un qualche modo oppresso infatti quando Gregorio si sveglia la mattina la fatica mattina lui è in ritardo la sveglia non gli ha suonato e quindi lo vengono a cercare a casa il suo superiore lo viene a cercare a casa anche il fatto che ci sia questo ritardo e che lui non abbia sentito la sveglia e di conseguenza lui sia ancora a letto e il treno che doveva prendere quella mattina lui non l'ha mai preso è già passato è un altro simbolo all'interno di un libro secondo me già pieno di simboli comunque questa edizione Mondadori non so se poi è rimasta invariata rispetto a quella attualmente in commercio è una è un'edizione davvero ottima comunque controllerò eventualmente se quella in commercio è simile anche perché penso domani di andare a fare un piccolo giro in libreria e vi spiego anche perché è molto buona questa edizione perché non soltanto ha un bellissimo apparato critico di cui tra un po' vi parlerò ma insieme alla metamorfosi ci sono una serie di di racconti come per esempio c'è il digiunatore che era quello a cui faceva riferimento Filippo Rotta all'interno del suo osservando Kafka ma c'è anche il medico di famiglia ma ce ne sono tanti altri nel precedente reading vlog io avevo messo un piccolo pezzo del film di Orson Welles Il processo e c'era appunto veniva recitato il racconto davanti alla legge esatto ed è compreso in questa raccolta poi Youtube purtroppo non me l'ha consentito la pubblicazione di quel frammento di film perché ledeva le norme del copyright quindi l'ho tolto ne è rimasto un piccolo fotogramma dove c'è scritto Incipit quindi sappiate che in quel reading vlog in cui vi parlo del processo in realtà ci doveva essere anche un piccolo estratto in cui veniva letto questo racconto vi parlavo dell'apparato critico una cosa molto bella di questo di questo volume è la bibliografia essenziale c'è una sorta di lista e ovviamente questa è un'edizione un po' vecchia quindi non è aggiornata sugli scritti su Kafka accessibili in italiano ce ne sono tantissimi io alcuni li conoscevo come quello di Canetti quello di Citati ovviamente quello di Camus però ce ne sono tanti altri ce ne sono due che mettono in corrispondenza la figura di Kafka con quella di Thomas Mann che mi ispirano davvero tanto e io questi li ho copiati incollati ho fatto una foto e l'ho messa sul gruppo Telegram quindi eventualmente se siete curiosi accedete nel gruppo Telegram tanto sotto avete il link e trovate la bibliografia che consiglia questa edizione Mondatori dopo vado a vedere se appunto c'è qualche implementazione in più rispetto all'attuale cioè se l'attuale ha qualcosa in più rispetto a questa volevo dirvi che domani penso di andare in libreria perché vorrei comprare la zona di interesse l'ho vista al cinema l'ho vista domenica ed è stato un film stupendo mi ha ricordato tantissimo per l'intento di vedere con occhi umani il male Le benavole di Jonathan Littel mi è piaciuto tantissimo anche perché il male non è mai indagato in maniera aggressiva ma è sempre percepito ed è sempre percepito come qualcosa di presente ma lontano ma a portata di mano nel senso che è qualcosa che nel tuo territorio tu non lo avverti perché tu abiti in un contesto che non è contaminato dal male quindi non ha la presenza degli ebrei del campo di concentramento ma tu senti le urla di di dolore degli ebrei all'interno del campo di concentramento ne vedi per esempio ne vedi resti ecco ne senti gli spari le fucilazioni però è qualcosa che non ti tocca ma è lontano è presente ma che se tu ti sposti lo hai a portata di mano mi è piaciuto tantissimo questo modo di raccontare l'olocausto e raccontare l'olocausto poi da un punto di vista che è quello della moglie del generale SS che mi è piaciuto tantissimo poi lui compariva anche nei personaggi di le benevole perché il protagonista delle benevole passava un periodo ad Auschwitz so che il romanzo dovrebbe essere molto più esplicito con delle scene di violenza pura il fatto che il film e il libro siano due prodotti totalmente diversi a me piace tantissimo mi piace tantissimo quando i film tratti dai libri hanno una loro identità c'è una scelta autoriale fortissima quella di aggiungere con una scelta fotografica di colori un personaggio che secondo me racchiude benissimo all'intanto del regista mi è piaciuto tantissimo quel film e niente questi erano gli aggiornamenti su Kafka e un mio possibile futuro acquisto allora stavo iniziando a montare il video che poi penso di pubblicare domani perché tra le altre cose volevo registrare il prop up del periodo però non ce l'ho fatta quindi ciuccerò questo video fuori domani stavo montando e era arrivato al punto in cui parlavo del saggio finale di Alfredo Zucchi a Polleri alle poltrone appassite e citava Vitor Sklosky ok non è vero che se leggete tanto poi i libri da leggere finiranno perderete interesse non è vero più leggete e più avrete voglia di leggere ogni libro che io leggo mi mette voglia di leggere altri libri nello specifico penso di aver messo in wishlist Zou e Lettera non d'amore che è adito Sellerio però è abbastanza è un'edizione non recentissima perché è del 2002 del 2019 molto più recente è questo di Adelphi Viaggio sentimentale che è però presente soltanto in questa edizione della fabula Biblioteca Adelphi infatti viene 22 euro con lo sconto del 5% 20,90 se no ci sarebbe questo qui Libet Marco Polo non so un po' da vedere ok questo l'avevo visto mi sa più libri più liberi questa è esiste in La carrozza da Potionchi se no c'è questo però questo secondo me non è un buon primo approccio secondo me perché parte dalle opere di Rozanov che io non ho letto quindi secondo me questo non è un buon approccio ma un libro molto interessante senza dubbio e c'è quest'altro fuori catalogo che sono scritti sul cinema sul cinema saggi recensioni e se secondo me all'università ho letto qualcosa di sgloschi però non me lo ricordo allora ripreso in mano Domicilio sconosciuto di Luciano Furetta di cui vi devo ancora parlare e sarà presente sicuramente nel prossimo wrap up che penso uscirà o domenica prossima o mercoledì prossimo vediamo anche in questi reading vlog settimanali vi posso eventualmente dare anche dei piccoli aggiornamenti anche sui video che ho in preparazione quindi potrebbe essere il tutto molto più diretto ecco molto più dialogato ho ripreso in mano Domicilio sconosciuto per andare a vedere in che modo io ci fossi arrivata perché a pagina 55 c'è scritto questo guardo il calendario la data di oggi ho segnato qualcosa è una scadenza bisogna pagare la luce come scrive Felipe Polleri non posso rispettare né capire né sopportare quelli che non hanno mai pianto per una bolletta me ne ricordo ogni volta che mi ritrovo a saldare un debito poi anche lui lo va ad inserire con Sabato con Wilcock all'interno di scrittori da all'umorismo conclusivo lui praticamente fa una sorta di disquisizione su quanto poi ci sia all'interno dell'istituto quindi degli scrittori del continente sudamericano e quanto sia macabro poi un umorismo e fa una serie di riferimenti tra cui questo poi alla fine di Domicilio sconosciuto c'è una sorta di appendice di ogni autore c'è una piccola frase che lo va a identificare di Polleri lui scrive Montevideo 1953 a un certo punto un suo personaggio confessa scrivo sempre lo stesso libro e se dovessi dire di che parla quel libro mi troverei nell'ovvia necessità di dire che c'è solo un argomento che mi interessa la compassione effettivamente il fatto della compassione il tema della compassione è una sfumatura che sta in sottofondo alle poltrone appassite si rivolge all'interno di questo condominio quindi lo straniamento è dato sì dal luogo aggiunto poi a questa sorta di trama surreale dello squid game dei giochi a concorsi il fatto che poi il diario venga preso in mano da un'altra persona e non venga continuato dal portiere dal personaggio principale è un'ulteriore forma di straniamento che viene data attraverso il linguaggio è umoristico anche a livello grottesco per una serie di avvenimenti che vengono descritti mi è piaciuto assolutamente sì il primo libro che ho letto a seguito di domicilio sconosciuto posso dire che mi è piaciuto invece ho cominciato giovedì il secondo volume del tempo di solve i balle questo qui ho letto le prime 125 pagine quindi sono a buon punto se nel primo vi avevo detto che e mi pare ci sia un reading vlog in merito vi avevo detto che la rottura del tempo e la sospensione del tempo poi portava nel lettore una serie di sensazioni ossia non abbiamo la materia temporale che va a mutarsi ma vengono mutate vengono mutati gli stati d'animo del protagonista principale attraverso il mutamento di questi stati d'animo noi andiamo a ricostruire delle fasi all'interno della vita di coppia come l'innamoramento la convivenza la rottura la crisi e via dicendo qui invece la rottura del tempo avviene in un periodo di viaggio e all'interno di questo periodo di viaggio vengono indagati e analizzati dei rapporti sociali quindi la rottura del tempo qui si va ad aggiungere alla dimensione temporale alla dimensione spaziale che va a mutarsi mi sta piacendo sì è molto più dinamico del primo questo senza dubbio ci sono una serie di riflessioni anche abbastanza interessanti è un libro che ha qualcosa da dire è una saga che ha qualcosa da dire la dice con un linguaggio molto diretto molto abbordabile la voce della protagonista è una voce molto colloquiale sembra veramente di sentire una persona che ti sta raccontando si sta confidando con te e quindi rende questi libri alla portata di tutti è una saga che ha qualcosa da dire io ero un po' scettica sul secondo volume perché non volevo che si ripetesse in quell'espediente letterario in realtà non si è ripetuto ma ha fatto un passo in avanti e questo mi fa ben sperare anche per i prossimi numeri che sono in corso di pubblicazione ultimo aggiornamento di lettura perché adesso volevo andare a leggere nel vero senso della parola ho iniziato questa mattina Il mondo e tutto ciò che contiene di Alexander Amon che è una nuova uscita edito Crocetti è considerato uno dei suoi capolavori insieme al progetto Lazarus io ho letto le prime 30 pagine vi dico per quanto riguarda l'Incipit e le prime 30 pagine è un libro che mi sta piacendo mi piace il taglio autoriale di queste prime pagine ovviamente è presto perché è un libro di quasi 350 pagine commentare le prime 30 non avrebbe senso siamo all'interno meglio non all'interno ma siamo agli inizi della prima guerra mondiale perché non siamo altro che a Sarajevo sta avvenendo l'attentato all'Arciduca e il tutto ci viene raccontato nel primo capitolo sotto un punto di vista che anche qui mi ha ricordato un punto di vista che io già avevo letto all'interno delle Benevole un punto di vista non simile perché nelle Benevole era un SS però il protagonista delle Benevole era omosessuale cosa che ha in comune con la voce narrante la voce narrante no perché è narrato in terza persona però con il protagonista di Il mondo e tutto ciò che contiene di questo sicuramente oggi non penso di leggere altro perché volevo andare avanti con Il romanzo luminoso però ve ne parlerò sicuramente meglio nei prossimi vlog allora ultimo aggiornamento di lettura per quanto riguarda questo reading vlog mi sono divertita molto anche se non ho vloggato parecchio durante la settimana a aggiornarvi sulle mie letture in corso ho continuato con Il romanzo luminoso tra un po' di uscire e andremo in libreria a comprare Martinemis La zona di interesse io ho questo déjà vu con i titoli incredibile comunque sto continuando Il romanzo luminoso sono arrivata a pagina 231 è scritto sotto forma di diario è un diario che si basa sull'apparente patto di fiducia lettore-autore perché l'autore del diario si chiama Mario Levrero stesso come l'autore del romanzo in realtà non è un diario autobiografico o almeno è autobiografico quanto lo può essere un romanzo c'è sempre questo questo beneficio del dubbio che si dà all'autore che quello che scrive sia o meno autobiografico e francamente nemmeno mi interessa saperlo Il romanzo luminoso è interessante perché è scritto sotto forma di diario e parla appunto di questo scrittore che non riesce a scrivere deve scrivere un diario perché lui ha vinto una borsa di studio quindi un premio in soldi da parte dell'istituto Gogenaim e per adempiere i suoi obblighi deve scrivere questo diario e quindi lui si lamenta del fatto si lamenta tra virgolette ovviamente del fatto che non riesce a scrivere e non riuscendo a scrivere lui riesce a scrivere perché scrive della sua quotidianità ed è una quotidianità fatta di abitudini abitudini maliacali paranoiche che tendono a nascondere una verità più celata che sembra fuoriuscire all'interno di alcuni discorsi ancora non si è capito molto di questa realtà paranoica che c'è e sembra che lui abbia subito un trauma un trauma che l'ha consideravolmente colpito a tal punto da straniarlo dalle altre persone a renderlo un un escluso rispetto al al mondo sociale è una persona che vive una solitudine anche una solitudine fatta del suo rapporto con il computer perché è un maniaco ossessivo che ha un rapporto maniacale con l'utilizzo del computer per esempio monitora e conteggia il tempo di utilizzo del computer parliamo di un romanzo scritto negli anni 2000 e quindi si parla di un internet che non è l'internet di oggi dove abbiamo appunto le app che consentono di calcolare il tempo dedicato ad una determinata app oppure ci sono anche le app che vanno a inibire un utilizzo oltre un tot di tempo di internet qui siamo proprio agli albori di internet infatti lui svilupperà dei DOS dei programmi in Visual Basic parlerà di cose che sono molto vintage e appartengono ad un internet che io ricordo e che utilizzavo mi sta piacendo molto questo sì mi piace la voce di Mario Levrero la voce e il taglio che dà a questo diario che nonostante non abbia una storia dietro non abbia dei colpi di scena e sia tutto basato sulla quotidianità è molto interessante come libro e soprattutto quando esce fuori il trauma di Mario esce fuori anche una sorta di tenerezza e umanità ed è la stessa tenerezza umanità che io ho ritrovato nelle pagine della metamorfosi di Kafka a proposito di Kafka vi volevo chiedere se eravate interessati ad un video interamente dedicato a Kafka in cui partivo con il leggere alcune frasi secondo me interessanti della metamorfosi e del processo e anche eventualmente di Nabokov di Mari e di Roth quindi le cose che ho letto questo mese per parlarne insieme e poi eventualmente fare dei collegamenti con altri libri questa sarebbe l'idea del video che ho in mente perché mi rendo conto che portare un contenuto su Kafka quando vi ho parlato di una bibliografia essenziale pubblicata negli anni 80 sul mio volume Mondadori che ha le migliori firme critiche quindi non voglio assolutamente andare a ripetere come un pappagallo quello che voi potete trovare in i libri critici ma volevo dare un apporto mio un apporto di costruzione e di comparazione ecco costruzione per quanto riguarda il video quindi il taglio è di comparazione comparando con letture che io ho fatto nel corso di questi anni questa sarebbe l'idea fatemi sapere se la cosa vi può essere di interesse perché a me stuzzica parecchio ed è il classico video che mi piace tantissimo fare e ci vuole un po' per prepararlo perché ci va un po' di lavoro di progettazione e niente ragazzi io vi saluto qui vi faccio sapere se ho comprato Martinemis se l'ho trovato e vi saluto vi ringrazio e vi auguro buone letture ciao grazie a tutti